Non solo formazione per gli enti pubblici e responsabili dei vari uffici, la comunità montana Vallo di Diano ha lavoro anche per la formazione dei giovani per aiutarli a diventare protagonisti delle scelte e delle progettazioni che andranno a ridisegnare il futuro dell'area interna Vallo di Diano. Tra le numerose attività messe in campo in questi mesi, ancor più nelle ultime settimane, l'ente montano presieduto da Francesco Cavallone ha anche dato il via ad una forma di partenariato finalizzata proprio al miglioramento delle competenze dei giovani nel campo specifico della progettazione e dell'europrogettazione. Con delibera di giunta dei giorni scorsi ha approvato l'adesione al partenariato che vede come soggetto proponente la Fondazione Comunità Salernitana ETS e l'APS Terra Cilento come partner del progetto denominato MUVIT e che si pone come obiettivo primario quello di formare i giovani in ambito di coprogettazione oltre che favorire una rete di scambio e confronto tra i principali attori delle aree interne. Un'iniziativa che come dalle primesse indicate nello schema progettuale vuole soprattutto far sì che i territori stessi siano protagonisti del futuro garantendo in particolare ai giovani un'adeguata formazione che li renda poi capaci di realizzare le progettazioni sulla base delle esigenze del territorio. Il progetto MUVIT si sviluppa a seguito di un'azione di consultazione effettuata nel 2020 su un campione di 400 ragazzi under 40 delle aree interne che rilevando il fabbisogno e desideri dei giovani per ritornare nei loro paesi d'origine ha fatto registrare e ha messo in evidenza una diffusa mancanza di conoscenza delle opportunità e degli obiettivi legati alla politica di coesione in particolare per quanto riguarda la SNAI. Secondo i realizzatori della progettazione mancherebbero le competenze necessarie per sfruttare queste opportunità e trasformarle in progetti di sviluppo locale. Il progetto ha raccolto un grande interesse tra i giovani pronti a mettersi in rete per dare vita a iniziative capaci di portare allo sviluppo delle aree interne costituendo così il gruppo di officina giovani aree interne che favorisce il confronto e lo scambio di idee.